Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, rallentamenti verso nord tra Calenzano e BV1 variante per traffico intenso. Sulla Firenze Mare resta un chilometro di coda per traffico intenso sulla viabilità ordinaria tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola e Codi a Tratti tra Pistoia e BV111, tutto in direzione di Firenze. E arriviamo in Fipilì per lavori, coda di 2 km verso Firenze tra Empoli e Ginestra, in carreggiato posto a rallentamenti tra Ginestra e Montelupo. Ricordiamo che si tratta di lavori per il miglioramento della sicurezza con restringimenti percorsi alternativi sulla SP12 o per i tragitti più lunghi sull'autostrada 11. Sempre in Fipilì verso Pisa, Codi a Tratti per Traffico tra Navacchio e Pisa Nord-Est e coda in uscita a Pisa Nord-Est e a Livorno Porto, provenendo da Firenze, per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, un viaggio!